Wola Cari bambini, voi sapete i numerini in inglese? No, non li sappiamo! Va bene, ve li studio io Ok, ve li dico 1, 2, 3, 4, can I have a little more? Bene, se avete imparato i numerini in inglese, ora vi studieremo i continenti Ecco qui, ho preso il mondo, così vi faccio mostrare quali sono i continenti Qui c'è un continente nascosto! Chi lo riuscirà a trovare vince L'Asia! Bravo, Giove! Se voi lo vedete, qua c'è scritto Asia Poi c'è un altro continente L'Oceania! Bravissima, Peppa! Infatti qua c'è scritto Oceania Ma adesso vi dico altre parole Voi sapete tanti altri continenti? Certo, l'Africa, l'America, l'Europa! Davvero siete stati bravissimi! Ragazzi, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale